In tutti i continenti ogni giorno vengono sprecati più di un miliardo di pasti e quanto rende noto col diretti in occasione di Be Human e il futuro dei sistemi alimentari globali verso il 2030, organizzato a Roma nell'ambito delle iniziative di Fratelli Tutti dall'enciclica di Papa Francesco. Per l'associazione si tratta di una situazione paradossale se si considera che 735 milioni di persone sono state colpite dalla fame e un terzo dell'umanità ha dovuto affrontare l'insicurezza alimentare. Il problema reale riguarda, sostiene l'organizzazione agricola, la distribuzione delle risorse alimentari e gli squilibri legati al venir meno di sistemi alimentari costruiti dal basso e fondati sull'agricoltura familiare che vanno sostenuti e rilanciati. In molti paesi ci sono sistemi che non sono più in grado non solo di produrre e distribuire cibo sufficiente a sfamare una popolazione globale in crescita ma anche di soddisfare le esigenze nutrizionali e di garantire un accesso equo e di operare in modo sostenibile. Il futuro del cibo e dei consumatori per col diretti è messo in pericolo da prodotti a base cellulare, gli alimenti creati in laboratorio che gli oligarchi del cibo cercano di spacciare come soluzione ai problemi alimentari e ambientali. Un passo importante, conclude l'associazione di categoria per invertire questo fenomeno, arriva da uno dei dieci programmi della FAO che sostiene i mercati contadini nei diversi continenti per favorire reddito e occupazione e combattere la fame.